30 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP dell'Aquila su richiesta della distrettuale antimafia dell'Aquila, eseguite dalla squadra mobile della questura dell'Aquila e dal servizio centrale operativo, la polizia ha disarticolato un agguerrito cult, un'organizzazione mafiosa di origine nigeriane che si è stabilita in Italia da anni, si tratta del gruppo dei Black Ex, un'organizzazione dedita a diversi reati fine, l'associazione mafiosa era dedita al commercio di stupefacenti, allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, alla consumazione di truffe via internet, al riciclaggio e allo sfruttamento della Costituzione, attività sostanzialmente finalizzate da acquisire una provvista che poi veniva mandata anche in territorio africano, si tratta di un'organizzazione trasnazionale che ha operato anche in diverse realtà di altre nazioni, cito gli Stati Uniti, la Germania, l'Inghilterra, le operazioni sono ancora in corso, siamo abbastanza soddisfatti, sono circa 300 i mafiosi nigeriani che nel corso dello scorso anno, dallo scorso anno ad oggi, la direzione anticrimine, centrale anticrimine ha colpito con diversi provvedimenti su tutto il territorio nazionale.